Ben ritrovati su ClassCNBC, esattamente due mesi fa debuttava su Piazza Affari il titolo dell'aeroporto di Bologna, poi c'è stato un lieve calo, l'aeroporto di Bologna è considerato tra gli scali più importanti sul territorio nazionale, ecco se ci sono delle turbulenze sul titolo dell'aeroporto ne parliamo oggi con l'amministratore delegato Nazareno Vento, amministratore delegato dell'aeroporto di Bologna, benvenuto. Grazie, buonasera. Allora, esattamente due mesi fa dicevamo il debutto, il decollo, perché inizialmente c'è stato un proprio decollo del titolo a Piazza Affari, poi una flessione, adesso facendo un primo bilancio nei primi due mesi perdete circa il 2%. Ecco, vi aspettavate qualcosa di diverso, anche poi un proseguo diverso del titolo? Direi che l'andamento è abbastanza in linea con le aspettative, nel senso che dopo la quotazione c'è stata una crescita molto forte nei primi giorni, un interesse molto forte, poi sostanzialmente un assestamento anche di natura tecnica, magari chi aveva comprato inizialmente ha avuto l'opportunità anche di vendere a un valore più alto e quindi realizzare, ci sono stati dei passaggi evidentemente di questa natura, ma non turbolenze di particolari entità. Però ecco, i movimenti comunque sono abbastanza limitati? Sì, in questa fase sono limitati, abbiamo visto anche che gli scambi sono, diciamo, dipende un po' dalle giornate, ma la situazione anche a livello di azionariato in questo momento è più o meno stabile, insomma, a salvo poi quello che sta succedendo sul mercato, quindi i volumi non sono particolarmente numerosi, dipende dai giorni, ci sono dei giorni in cui... Insomma, c'è ottimismo anche da qui? L'ottimismo assolutamente, i fondamentali che sono stati alla base del nostro processo di quotazione rimangono e si rafforzano, quindi da questo punto di vista siamo tranquilli. Il primo semestre è andato molto bene per l'aeroporto di Bologna, poi luglio è stato un mese dove ci sono stati tantissimi, un numero molto elevato di passeggeri, 700 mila, uno dei più ricchi di sempre. Ecco, volevo chiederle, quali numeri avete in mente proprio come traffico di passeggeri, adesso poi dopo la quotazione da qui, facendo una previsione da qui a un anno? Allora, noi abbiamo appunto, come diceva lei, luglio è stato il mese più alto della storia e agosto l'ho anche superato, quindi agosto abbiamo superato ulteriormente il valore di luglio, che è il mese quindi più alto della storia dell'aeroporto in assoluto. Abbiamo una crescita ad agosto del 2,5% e pensiamo di crescere entro fine anno, a fine anno su numeri più o meno simili, anno su anno, 2015 sul 14. Quindi diciamo che prossimo anno supereremo ragionevolmente la soglia dei 7 milioni di passeggeri. Ecco, un tema molto caldo di queste settimane è quello del cosiddetto risico degli aeroporti, adesso potrebbe esserci una fusione, anzi dovrebbe esserci una fusione tra l'aeroporto milanesi, l'Inate Malpense e poi quello bergamasco invece di Ori al Serio. Qualche settimana fa il presidente dell'ENAV Vito Riggio ha ipotizzato la fusione dall'aeroporto di Bologna con quello di Firenze e Pisa. Allora, le volevo chiedere innanzitutto se questo annuncio ha in qualche modo delle verità e quindi un fondamento. E poi ecco, in generale, quale ruolo potete avere voi come aeroporto di Bologna in quello che è questo risico degli aeroporti? Partendo dalla dichiarazione del presidente Riggio, lui come correttamente ha detto era una dichiarazione a titolo personale, lui chiaramente è il presidente dell'ENAC, quindi dell'autorità di regolazione del sistema nazionale, quindi ha un suo ruolo, una sua voce, però era una dichiarazione legata a un'idea che il nostro regolatore ha, che è di provare ad aggregare dei sistemi regionali in una logica di massa critica. Quindi in termini ideali sono progetti che possono avere un certo senso, da punto di vista concreto nel nostro caso non ci sono in questo momento sul tavolo progetti di questo tipo. Quindi ho un'opinione personale del presidente Riggio che rispettiamo, ma non abbiamo sul tavolo progetti di questa natura in questa fase. In più in generale è vero, c'è un processo di aggregazione, di consolidamento negli ambiti regionali, di Toscana da una parte, Veneto, Nord-Est, Venezia-Verona, Treviso dall'altra, sistema Lombardo dall'altra ancora. Noi in questo momento siamo un po' come dire in mezzo anche dal punto di vista geografico. Il nostro progetto di quotazione prevede in questa fase una crescita per linee interne, uno sviluppo per linee interne, ma è ovvio che siamo attenti a quello che succede sul mercato e quindi saremo attenti a valutare le opportunità che si andranno a creare, sempre in una logica di creazione di valore per i nostri azionisti, sia quelli vecchi sia quelli nuovi. Ecco, ma eventualmente rispondereste più ad est o ad ovest? Noi siamo un po' a metà, quindi valuteremo l'opzione migliore, non abbiamo un preconcetto nei confronti di nessun sistema, di nessuna ipotesi. Ripeto, dovrà essere un'opzione che comunque consenta e rafforzi quelli che sono i nostri programmi di sviluppo, perché le alleanze si possono fare sia per ragioni di sinergia reciproche, ma anche per ragioni in certi casi, perché chi si allea con qualcuno, diciamo, limita lo sviluppo e limita la concorrenza, questo non vogliamo che sia nel nostro caso. E un parere suo invece su quella che è questa fusione tra Milano e Bergamo? Beh, lì credo che abbia un certo senso, diciamo, da persona che lavora nel settore, poi ovviamente il processo è nelle mani di chi lo sta seguendo, in particolare gli azionisti di due aeroporti, perché da una parte abbiamo Bergamo che è cresciuto molto negli ultimi anni e ha evidentemente una situazione anche territoriale di forte vicinanza alla città, quindi da gestire in qualche modo, dall'altra Malpensa ha una capacità di riserva che è inutilizzata in questa fase e quindi può, diciamo, in un'ottica di sinergia essere messa al servizio di un sistema complessivo. Avete incrementato le vostre rotte negli ultimi mesi, adesso a novembre partirà il Bologna-Dubai, poi ci sarà anche il Bologna-Mosca, quindi nuove rotte a livello internazionale. Le volevo chiedere se ci sono anche delle ulteriori novità proprio per incrementare il traffico di passeggeri dall'aeroporto. Sì, la nostra strategia appunto è di lavorare sulle aree in qualche modo meno connesse oggi o quelle a maggior potenziale di sviluppo. Come diceva giustamente lei, il 3 novembre parte il Bologna-Dubai con l'Emirats, siamo il quarto aeroporto italiano a essere connesso direttamente col Golfo dopo Roma, Milano e Venezia, che sono i tre aeroporti hub strategici del sistema nazionale. Il quarto aeroporto sarà Bologna, parte appunto Mosca da fine ottobre col secondo volo giornaliero, la direttrice nostra di investimento sul mercato è proprio con quelle direttrici lì, quindi non ci fermiamo a quelle destinazioni, andremo a perseguire ulteriori collegamenti. Sull'Europa andremo a riempire le aree non ancora connesse che in realtà sono molto poche, perché noi abbiamo una delle connettività a livello nazionale tra le migliori, quindi in realtà con i principali hub siamo collegati, con i aeroporti secondari europei principali siamo collegati, dobbiamo incrementare. Partiremo con un rafforzamento sul nord Europa con la fine di ottobre, con un collegamento anche su Copenaghen che integra quello già presente con SAS, anche con Ryanair che è il nostro vettore low cost principale, andremo a intervenire in maniera strategica sulle aree non ancora coperte. Ma ci saranno altre compagnie low cost che potranno volare dall'aeroporto? Potenzialmente sì, anche se noi abbiamo già le principali, perché abbiamo Ryanair, abbiamo EasyJet, abbiamo Wiser sul mercato dell'est Europa e poi abbiamo anche Jet4U sul mercato del Nord Africa, quindi diciamo che le destinazioni principali e i principali operatori, le costi internazionali sono già operanti a Bologna. Grazie Nazareno Vento, l'amministratore delegato di Aeroporto di Bologna, per essere stato con noi. Grazie a lei. Grazie ai telespettatori, vi lascio con la programmazione di Classi in Bici. Grazie a tutti.